Sostengo esterino perché esterino sa decidere e sa fare, quindi è un ottimo amministratore che si prende le sue responsabilità e agisce di conseguenza. Sostengo esterino perché è un uomo di sinistra, sostengo esterino per quello che ha fatto, quindi per il ruolo straordinario che ha svolto in questi anni dopo la vicenda Marrazzo e come ha saputo gestire la regione in una fase sicuramente non semplice. Sostengo esterino perché...